Per cercare di dare il quadro complessivo, noi in regione abbiamo 170 strutture, in queste 170 strutture al 9 aprile avevamo 24 strutture dove ci sono dei covid positivi, poi se volete ve le do anche per azienda, quindi per area territoriale. I posti letto sono quasi 10.930 per l'esattezza. I covid positivi, se vi interessa ve li do anche per azienda dopo, sono 270. I decessi sono stati 90. Questi decessi 54 dalle case di riposo sono decessi per trasferimento che sono avvenuti negli ospedali e 36 sono avvenuti dentro le case di riposo. Cerchiamo ovviamente anche per impattare il meno possibile sulla persona di evitare gli spostamenti ovviamente dove è possibile, cioè dove è possibile fare delle zone di contenimento all'interno della casa di riposo stesso. Il sistema delle case di riposo sostanzialmente ha due modelli, ha il modello della casa di riposo che indipendentemente da questo che sia pubblico o privato ha una certa dimensione e ha la cosa che in questo momento ci sta preoccupando di più, cioè quella legata all'esperienza di Trieste dove ci sono 45 strutture che noi definiamo promiscue, quindi strutture piccole che si trovano in insediamenti con altre attività, con altre presenze residenziali. E quindi adesso noi stiamo facendo un forte intervento dentro queste strutture perché sono strutture che avendo una condizione di promiscuità ovviamente impongono delle sanificazioni, impongono uno screening molto importante perché ovviamente ci sono queste promiscuità.